Guardatemi un secondo che finisco con Instagram Sì, ok, questo lo leggeremo dopo Aspetta un attimo che apro anche la chat E appunto non si sa mai che Perfetto Dunque, dunque, dunque Adesso mi arriveranno le mail di notifica Buonasera Genji Ho aperto la chat tra l'altro troppo tardi Però lo vedo su OBS che ha iscritto Buonasera Già sul pezzo, eh? Se trovo Oddio Sì, così va bene Però mettici l'underscore, please Uno e due Perfetto Allora Penso si sente tutto bene Sulla live, tra l'altro Non credo ci sia un problema di audio Anche perché non ho modificato niente A meno che il microfono non faccia Non è il microfono in realtà Avevo visto che il problema Probabilmente era un altro Ma A meno che non si sentano strappi strani Tipo quella sera Tipo Prendimi il volume qui Perché immagino che Se c'è qualcosa che non va Genji sarà il primo A dirlo Detta così suona male Ma Era in senso positivo Ovviamente Allora Tipo Per dire no Ok, perfetto Io questa sera Inizio a usare un controller Il nostro caro controller PS4 Che da quando l'ho cambiato Non avevo avuto ancora occasione Modo e idea di provare a impostarlo Sull'emulatore E in realtà no Probabilmente in realtà L'errore era mio Perché avevo impostato male L'emulatore E quindi il controller L'altro andava Ero io che l'avevo impostato male L'emulatore Quindi non riusciva a memorizzarsi i tasti Ho smanitato nell'impostazione Ho detto È impossibile che non funzioni Questo della PS4 E infatti Però funziona Tipo Adesso io per dire un attimo Eh, però Perché Va bene tutto Ma Per non far cadere niente Quello che Tipo Facciamo così Ci siamo? Ci siamo? Quindi giochi con il contro Esatto Stasera si gioca con il controller Colpo di scena Giocare con un controller Eh Sì ma noi sappiamo che Sì Sì assolutamente Tipo allora mettimi Questo qua OBS La chat Me la metti Magari dove Una roba Esatto si colpo di scena Come Non dovrebbe essere una cosa così Astronomicamente Figa Giocare con i co Eh No non è che è figa Sono io che sono scemo È diverso Allora facciamo così Chat la metto qua Vabbè non male Eh E Perché no? Eh restiamo così Ecco L'unica cosa Farai una cosa Tipo Questa qua Giusto per vedere Ma tipo Musichetta Quindi Quindi Tra l'altro Non vorrei dire Ma dall'ultima live Sono andato a vedermi Il finale di Metal Gear Solid V Sempre restare in tema Siphon Filter Perché ovviamente Metal Gear Solid È in tema Siphon Filter Che cosa Non è il finale Di Metal Gear Solid Vabbè Un po' di problemi In quel titolo Però il finale Sì è quel Colpo di scena Madonna mia Tuttavia Connessione Non far scherzi strani Perché non ho aperto niente Su PC Che non sia OBS L'emulatore Quindi Non dovresti avere Vediamo un attimo Ci sono problemi strani Sulla live Giusto per capire un attimo È perché Ok no Adesso dovrebbe essere a posto Quindi L'altra volta Eravamo alla cattedrale Avevamo trovato L'entrata per le catacombe Ieri sera Le catacombe Le abbiamo fatte Quindi oggi Si andrà Alla città infame Immagino Allora Uzzorod O come si legge In Ucraina O Ucraina Catacombe della Roccaforte Ok chiaro Messaggi di Markinson Se queste catacombe Sono come quelle Che abbiamo chiuso a Parigi Römer 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 Vabbè Sta usando un sistema Di sicurezza Che riconosce Le impronte della mano Dovrai seguire Una delle guardie E uno dei tecnici Del laboratorio di Römer Fino alla cella di Fagan E aspettare Che apra la porta Ricorda che Fagan Mi serve vivo L'agenzia Ha interrotto i contatti Con il dipartimento di stato Non rispondere A nessuna comunicazione Che riceverai Da altri membri Dell'agenzia Non abbiamo molto tempo Addirittura Ok chiaro Quindi non rispondere Segui qualcuno Per farti aprire la strada Ok Però Sono poco convinto In realtà Sono poco convinto Da quello che vedo Su OBS Qualcuno ha violato Il sistema di sicurezza Römer ha ordinato Di eliminare i prigionieri Lei si occupi del vecchio Io aspetto qui Il sistema di sicurezza Il sistema di sicurezza sotterraneo Riconosce le impronte della mano Devi seguire la guardia E lasciarvi aprire la cella Se ti vedono Non riuscirai a entrare Allerti una squadra Per evacuazione Non ci vuole Aia detta così Eh Stavo pensando la stessa cosa Ecco Ci ho messo un attimo Per riprendere il controllo Prima ho testato il controller No Ci ho messo un attimo Per capire come funzionasse Perché non ero più abituato A usare la tastiera E ci ho voluto un attimo Per capire che i tasti Direzionavano Li giravano La visuale Perché sono abituato A usare Ehm Il controllo Cioè il joystick testo Per la Eh Tipo D'altro Noi facciamo E' un dato E' uno sponso Ok Trova Falan Molto semplice Ah tipo Chiaro Limpido Come un cielo Come è che diceva Alexander the large Bene Chiaro limpido Come un cielo Sempre blu Come un cielo Senza nuvole Cos'è che diceva Silenziata Miracolo Ah ok Ehm Tipo Ah aspetta Si faceva così Chiaro Eh ma silenziato Ho un colpo solo Io Non è che per caso Se No Dovebbe essere Un bel problema Eh si Ma tipo se Può andare via il gas Grazie E' fin qui Ok Sì ma il fucile C'è chi non In realtà parlo per ricordi di Metal Gear Solid Perché là mi ricordo che facevo uno sparo bello potente Qui non lo so È 9 mm Ma 9 mm Salve Però aspetta Allora Mi hanno detto che ho E questo fucile da cecchino Da quanto mi ricordo Sì Dai non dire Sono un imbecille Quello è il tizio che devo seguire Ok Questo è il più Ma 9 mm Non è questa Aspetta Facciamo un attimo Eh no È la 45 È la 45 Che scemo È vero Che scemo Ma tipo se Allora faccio così Innanzitutto Pin qua Ok Ok La 9 No non era quello che volevo fare No non era quello La 9 mm È questa Ok chiaro Perfetto Quindi Allora Select Perfetto Perfetto Però Allora Di là si prosegue Teoricamente Perché c'è il tizio Che va verso Eh Quindi di qualcosa Vuoi dissi altra volta Se è un filter Non è bastardo Esattamente Ma infatti Assolutamente Infatti Mi perprime molto Quando vedo che Sono un po' Bloccato Perché penso No non è possibile Che io sia bloccato Ci deve essere un modo Perché Appunto E questa cosa Comunque è molto Oculata E fatta bene C'è un titolo Che ti mette Sempre Oddio Qua finiamo Come la tomba D'arra Senza nome Che non è una cosa Di Dark Souls 3 È una cosa Di Final Fantasy 8 Sai qual è il problema Sapete ragazzi Qual è il problema Che io qua Vorrei esplorare Chissà quanta roba C'è da trovare Cerca di seguire Lo scienziato Che tipo è Stavo dicendo Proprio quello Che qua Chissà quanta roba C'è da esplorare Però io dovrei Seguire lo scienziato Soprattutto perché Uno Chissà se Poi lo perdo Uno Due Chissà quanta No Prossa questa zona Ma non dire Forse è meglio Risalvarla sopra Che bello Che bello Fare questo Senza sforzi Per incasinarsi Con gli input Del Perché non Mi incasino più Con gli input Della tastiera Posso farlo Tranquillamente Salva qui Per piacere Poi dovrò Tipo La vibrazione cellulare Ma perché Scusate un attimo No è troppo Devo aspettare Un attimo Ma antiproiettile Non serve ancora Non c'è bisogno Appunto Carabina Al massimo Salva Aspettate un attimo Perché mi sono dimenticato Di fare questa cosa Facciamo subito Tra l'altro Cosa cavolo È sta notifica Ah Devo toglierle Notifica Altrimenti Ok È chiaro Dicevamo Ah Però Aspetta un attimo Può essere che Accidenti Si ripetendo La missione Stealth Che non è niente male Dallazione E a quanto pare Non è esattamente La mossa giusta A meno Che A meno Che Ma non Era quello Che volevo Fare Ecco Quello Per fortuna Non mi ha visto Tipo Accidenti Cos'è mi ha sentito Tra l'altro Salva qua Please Si fa attenzione Mi sono un po' Intasato È una sensazione Bruttissima Salva Solo che tipo Ora che ho salvato Voglio un attimo Controllare Ok Ce le ho già tutte Difficile che Perdi lo scienziato Perché ti aspetta Ah Ok È chiaro Ah vabbè Allora A me va benissimo Ti prego Non uccidermi Non uccidermi Niente paura Non sentirai male Ti darò dei soldi Quanti ne vuoi Grazie al cielo Sì c'è un po' Sì c'è un po' Fagan Sta per morire Sta per morire Non ti credo Se prometti di lasciarmi andare Riaprire l'emulatore Allora No ma fidati che Devi essere molto preciso Fortunatamente Questa parte è stata breve Ma può anche starci In realtà È cari Non mi dispiace Ho avuto più problemi Con l'elicottero Dunque 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 Filter E teoricamente Ora funziona Mettimelo di nuovo Qui OBS Please La chat Emulatore Ora Ok teoricamente Però secondo me Fagan è già morto Proprio Devo capire un attimo Cosa bisogna fare Però qua Più che altro Di un attimo Un attimo eh Ucciteli Ucciteli Tra di quella parte Con la tastiera Ah beh Vuol dire che l'armatura In che senso In che senso c'è la Ah Sì c'è un po' Un filtro Della chat Ma non vedo Perché ti dovrebbe Vedere un attimo Consentito Consentito Non chiedermi perché Dicevo c'è un po' Un filtro Della chat Ma non vedo perché Sia filtrato Questo Sì Vedo che siamo molto Svegli qua eh Mi raccomando Ti prego giù Bot antiproiettile Ti prego Non è Mai una gioia Circa Tu non è Che No figurati Stavo Giusto dicendo Ma dove Spargo Esattamente Perché Non trovo Neanche un'armatura Quanta vita Che tolgono Stavo Perché far fuori I nemici Quando puoi Semplicemente Correre Dai Chi Dove Ah Arma Anti Giubbotto Ancora meglio Tipo cos'era La carabina Will No Stavo pensando Giusto a quello Esattamente Però 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 Va bene Dai Armatura Che culo Far quasi dei meme Tipo di me Come vodo Quando trovo Un'armatura Che è strano Ma Tipo Fagan Ma tu sai Dove stai andando A parare Autotarget Esatto Cioè Autotarget Immagino Si intende R1 Ah ma L'ho Shottato Così Ok Ci sto Chi Peccato però Un attimo Ho fatto abbastanza Cagare qua C'è solo un problema In tutto questo Ovvero Che sto finendo I proiettili Salva Ho finito I proiettili E quindi Certo Non sciotti Quelli con L'armatura Aspetta Anche se Alterni con Carabina Tanto male Non è Certo Non sciotti Quelli con Eh sì No è vero Però Pazienza Ora che ho finito I proiettili Uso la 9 mm Più che altro Così a caso La uso Nel senso che L'importante è Fare cose tipo questa Tipo questa Che non posso fare Da qua dietro Sei una mer Merda Dai ma Sto subendo colpi A casa Per riposarmi Un attimo Mentalmente Perché sta cosa Mi Mi perplime Tanto Carabina Dicevamo Il cavolo È la Carabina Perché no Perché no Con le varie Scatole Ti consiglio La Carabina Sì In realtà Sì Ci stavo giusto Pensando Del fatto che Ah ma Si riparte No Aspetta un attimo Si riparte da qui Un paio di paglie Non è la cosa Giusta da fare Stavo giusto Pensando che I nemici Troppano La Carabina Circa O mi sembrava Più che altro Che droppassero La Carabina Magari mi sbaglio Ah Che imbecille Però Aspetta un attimo Cioè io davo Per scontato Che mi vedessero A priori Però no Ti prego Grazie Sia lodato Ma che cazzo Eh ma Alla faccia Alla faccia Forse dovrei salvare Una volta che ho superato Questa I Pagan Eh si Però devi sapere un po' Cosa stai andando incontro Tipo Salva qua Anzi Salva qua Calma lì un attimo Tipo Armi 9 mm Per dire No Chi Dove Ah da là Dai Ma perché ce n'è Mille 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 Da tutte le parti Cosa sta succedendo Di qua Fermati lì Sì è vero È È Che è più È più Adatta Cioè Quel fatto che fa uno Sparetto piccolo Singolo Mi sa più da arma Adatta Lo so che è stupida Come cosa Lo so benissimo Me ne rendo conto Tipo Io mi riprendo un attimo La mia cara Carabina Carabina Vado Vado a shottarmi Per questo Tipo lei E arrivo Dammi un attimo Ah Chiaro Eh sì però Tempominchia Che gli faccio Un headshot Questi mi ammazzano Tre volte Eh lo so Sono strani A volte In certe cose Mia Quanto Gli ho dovuto sparare Prima di farlo fuori Salva Petta Perché questo qua È uno stronzo Che Eh Buongiorno Fagan Veramente Dicevo che sei già Un uomo morto Ma in realtà Sto morendo Mille volte io Salve Fagan Ce la fai Ah ok Chiaro Quella è la sua cella Adesso sei da solo Leanne Gabe Come hai fatto a venire Grazie al cielo Credevo fossi morta Dobbiamo andarcene Il virus Siphon filter Lo so Sappiamo dove sono i computer Markison sarà qui fra poco Gabe Sono infetta Dobbiamo andare al magazzino di Fagan Prima che l'agenzia distrugga tutto Ma hanno trovato un vaccino I pazienti Non esiste un vaccino universale Bisogna conoscere l'esatto codice genetico del virus Queste informazioni si trovano solo nei computer di Fagan Ma questo significa Seguimi So come uscire Comunque si Non so perché lo Dobbiamo andarcene Non so perché lo Così Lo banni Comunque Fox Dai a manetta Cioè Vabbè Calma Codice genetico Adatto Il codice genetico specifica Minchia Ho capito Ma cosa devo fare io Cioè Poi i cartelli si è finiti Dissi che non avevano No No Qualche sia Ci sono tra le Tra le Sto morendo Tra le tematiche Non dico tematiche principali Ma insomma elementi principali della trama Che sono basali Identici a Metal Gear Solid No Eh non Te giubbotto Ma io non ho così tanto tempo per Estimolarlo Meryl Salva E va a capire quali sono Tipo questo Come cavolo fai Cioè Non hai il tempo O provi O provi Aspettavo uscire Tipo da qui Meryl Cioè ovviamente Le cose si possono anche fare Tranquillamente In maniera ponderata Se si ha il salvataggio rapido Per carità Però Non è pensato Per esserci salvataggio rapido Perché tra l'altro Continuano a sbucare Di qua e di là Mi si incasina La visuale Con Il target Dai Ok Perfetto Perfetto Meryl Dove sei? Dove cavolo è scappata adesso? Cioè un'idea ce l'ho eh In realtà Ti sento Ti sento Dammi un attimo Carabina Credo su di qui Esatto Verso l'uscita Praticamente Ok Siamo chiaramente Siamo chiaramente Nella sezione Il puntino blu Sulla mappa Cheat Si è vero Non avevo Non c'è Per una volta Esatto Prima lo guardavo In effetti E ora come ora Invece non mi è venuto Neanche in mente Però chiaramente Siamo nel punto In cui bisogna Scappare dai soldati Dopo aver sconfitto Il Metal Gear Peccato Dai Mi serve un giubbotto Antiproiettile Ma Mi ha rubato la kill E con essa Con essa Con essa Il giubbotto Antiproiettile Mailing Cioè non Mailing Merrill Cosa stai facendo Si è incantata Come Fagan Prima Oh Mio Mio Non so da dove Non so chi Va bene così Salva Please C'è qualcuno qua Tipo C'era Perché ho dovuto Fare tutto il giro Della stanza Quando bastava Venire Sì Esatto Salve Ti prego Dimmi che Merda Mio Con quale Agilità E destrezza Gli ho fatto Un headshot Così a caso Cioè tra l'altro Io non vorrei dire Dai Può morire Non ci credo Che può morire Dai Sono sempre stati Tutti praticamente Immortali Fin qua Circa Dai Più è pagante Con il controllo Sì Parecchio Madonna mia Ma che Ah Può morire Eh Ok Ma 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 Ok Va bene Ma questo è un trollone Ehm Sono un imbecille Armi Allora Dov'è qua Mia cara Eh Sì Sì No Ho visto Sono un deficiente Allora Fermo lì tu Controller Non fare scarsi Adesso Ok Ok Salva Questo è un po' troppo trollone Però eh Per i miei gusti Ma dai Quanto deve essere Cos'è il G18 Tra l'altro Come fai a ricordarti Tutte le armi Perché mi dai Sono così tante Sibile Che Cioè Quanto ci devi giocare Prima di ricordartelo Cos'è il G18 Ah Eh sì Però Non Il giubbotto Antiproiettile Non gli fa niente Questo Cioè Tanto vale Eh Perché tanto Dove sei Dove sei Eh Perché adesso Questo si è fermato Perché Dai Dai che l'ho preso Non diciamo fesserie Dai non diciamo fesserie Io l'ho colpito No So che non ho il G18 Non è Non è quello il punto Cioè nel senso Lo so benissimo Che non ho il G18 Ma non è antiproiettile Cioè non Non è antiarmatura Il G18 Tanto vale usare la pistola Se devo fare un headshot Salva please Fa sempre il tempo A tornare indietro Sì è molto probabile Meryl Che io sia pazzo Ho ucciso Meryl Tra l'altro Ma tipo Ok ora proviamoci Armi Non so come andrà a finire Dove cavolo Siamo all'entrata Cioè all'uscita Salve Ho aspettato qui Per cambiare Madonna mia Almeno non è Monocolpo Quindi sì esattamente Esattamente Dai Manu Questo è l'antiproiettile Cosa stai facendo? Buongiorno Salva Che non si sa mai C'è qualcuno là No Sono tutti della stessa pasta Mara Non abbiamo molto tempo Se non li fermi Moriremo tutti Andiamo a un elicottero Quiet Quiet Hai imparato a parlare Imparato Tra virgolette Sì Ok Prima ho detto Ah è praticamente come me Ma con quale cazzo Sì esatto Così Così Ok Messaggi di Liam Ok Perfetto No Boom Sì Mi ricordo tantissimo Una scena di un film Tipo Friend or enemy I'm a friend No No tipo No era molto più serio Tipo Friend or enemy I'm a friend You're a liar Così Anche se in realtà Era davvero un alleato Cioè era davvero un amico Così a caldo Dunque Messaggi di Liam Cioè di Mary I uomini di Remer Stanno attaccando I magazzini di Fagan Devi raggiungere I mainframe Del sito Prima di loro L'altro I mainframe Sono Vabbè Lasciamo per Devi raggiungere I mainframe Del sito Prima di loro Ok I satelliti Dell'agenzia Sono inattivi Ma Aramoff Afferma che Il silo Può essere raggiunto Solo tramite Gli ascensori Di servizio Del magazzino 76 Ericsson Ha i codici Di accesso al computer Devi quindi Trovare prima lui Ericsson E poi Ok Chiaro In questo magazzino La Farcom Teneva i cadaveri Che usava Come portatori Del virus Devi collocare I segnali Su ogni cadaveri Che trovi In modo che l'agenzia Li riconosca E disposti In un centro Di contenimento Di livello C L'altro livello C Ci si arriva Attraverso Magazzini Non avrai tempo Per perquisirli tutti La Farcom Ha sviluppato Un'apparecchiatura Per rilevare Il virus A distanza Ericsson Deve averne una Rian Prova ancora A contattare Marques Mara ti conviene Per detto la verità Tieni la doc Con quale Con quale attarraggio Ok Quindi Ericsson Ok calma Con molta calma Quindi teoricamente Devo trovare Ericsson Per farmi dare Le password Per i computer E anche Credo Il radar Tra virgolette Radar Per rintracciare Cadaveri Comunque I creatori Siphon filter Adesso sono anche Quelli che hanno Fatto dei scon Hanno menzionato Che dopo Il rilascio Di quest'ultimo Potrebbero Ravare Noi Siphon filter Con i mezzi Di oggi Magari anche Una degna trama E una sceneggiatura Potrebbero Tirare su Qualcosa di Ma che tra l'altro So che ci sono Anche altri Siphon filter Cioè nel senso Non so niente Degli altri Ma penso Che comunque Siphon filter Capitolo City Metal Gear Perché sarebbe Troppo Ok comunque Dicevamo Che se trovo Erickson Dovrei darmi La password Di computer Immagino anche Qualcosa Per trovare I cadaveri Ma ce ne è anche Più di uno Da quanto ho visto Forse ho letto male Cioè c'è Più della trilogia Credo Però forse ho visto male Cioè ho visto Diversi titoli Su Twitch Più che altro Quindi non Eh Posizione attuale Trova e interroga Erickson Disattiva i reticolati Elettrici Ok Il 76 è là Dove c'è l'ascensore Chiaro Immagino il 36 Possa essere Dove c'è No SP e poi portati Anche PS2 Eh infatti Probabilmente Sono quelli Che ho visto io Sì che più o meno La grafica PSP Tra l'altro Ci stava Su PS2 Volendo Era più o meno lì A livello di Quindi Io sarei tentato Di andare Un attimo Al magazzino 36 Giusto per dirne una Non so quanto Possa essere un'idea Intelligente Però nella trilogia Abbiamo un grande Gabe Logan Doppio cambiare Ah Mi ricorda qualcosa Mi ricorda qualcosa Il K100 Ok salva Chi Fermo lì Stavo leggendo Quindi ho Ma tipo Se voglio andare Verso il 36 O 86 O quel che era Devo andare di qui Chiaro Tipo è possibile Dai non ci credo Che non si può Teoricamente Aspetta Mi sono perso L'ultima frase Prima che riprendessi Sì no Cambiarono il protagonista Per Mi ricorda qualcosa Che cambiarono il protagonista No voglio andare Comunque al magazzino 36 Che dovrebbe essere appunto là Provo a capire un attimo Come si sblocca Qui Figo Carabine da combattimento Ora facciamo tipo Mod di Dark Souls Cioè Challenge di Dark Souls Use what you find Ma per se la prima volta In questa mappa È un enigma Improbabile Sì Ho cinque colpi Ah Ah Immagino di dover fare Una sorta Qualcosa tipo Platforming O qualcosa del genere Teoricamente Devo andare lì a destra Teoricamente Via Eh ho capito Ma minchia Mi possono sparare Sono messi lì Proprio per renderti la vita Difficile E non trovarla E trovare la strada Eh sì Ah Ma guarda un po' Ma guarda un po' Muoviti Che sei Cosa vuoi Faccio io le domande Mi servono i codici Per accedere ai mainframe Del silo Ti giuro che io non ho Quei codici Conterò fino a tre Poi premerò il grilletto Non ho i codici Uno Due Va bene va bene Ecco Sono qui Fermo Se muovi un solo dito Prima che sia tornato Ti ammazzo con le mie mani Baglio il doppiatore Quello di Psycho Mantis Potrei sbagliarmi Scanner Oh figo Lo scanner ti servirà Per trovare gli infetti Esattamente Esattamente Salva Solo che No niente Lui è già sistemato Ok Tipo Si divide Identifica tre portatori Del virus Si Devo guardare il navigatore Immagino però Per trovarli Esattamente Veriticolati Chiaro Uno è là avanti Salva Ah ma aspetta un attimo Che scemo Si usa tipo Da qui No Non così È fighissima Sta cosa Che figo Ovviamente Questo era il futuro Per l'epoca Cioè Si si esatto Bravo Non l'avevo neanche letto Il tuo commento Lo stavo giusto pensando Era il futuro Questo Di cosa stiamo parlando Cioè Che vorrebbe una cosa Come questa In Cura World Per Per detectare Per rilevare I blocchi Di geodata Invisibili A distanza Quelli che sono infami Veramente No Fermi di un attimo Tanto sono infiniti Han detto Quindi Ok E tipo Dai Non ci credo Non si può entrare Eh Ah ma guarda Ah Dicevo Perché entrare In questa stanza Se è vuota Ecco perché Solo che Tipo Salva Si ammazzano Praticamente C'è una faida in corsa Esatto Bravo Esatto Sono i soldati Del rammer Versus contro Versus Non ricordo chi Ovviamente La Laxoff Dunque 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 Qualcosa mi dice Che essere qui È una cosa giusta Ma potrei O forse serve Soltanto per recuperare Quell'arma Chissà Qui sopra Non ci sale E questo è già Un indizio E beh È ovviamente Laxoff Altrimenti Che potrebbe mai Essere Via Beh Sì Vabbè Cos'è Adesso Esagerati Ok Cerchiamo Per recuperare Quello Esatto Sì sì Assolutamente Immaginavo Dai 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 Ah calma qui Calma Molta 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 Calma Tipo Salva qui Ehm Io vorrei capire Un attimo Da che parte Posso anche morirci Ora come ora Perché tanto Disdero esaudito Cioè Esaudito A destra Cioè A parte che Ok Ok Il problema è che Sto per morire E qui sopra Sembrava così tanto E qui Eh ok Sì sì Immaginavo Solo che Va un attimo A capire Perché Tipo qua Per dire Salva Dando per scontato Che adesso L'ho rammazzato Io vorrei però Guardarmi intorno Un attimo No Per dire Per dire Alle mie spalle È di là Che dovrei andare Però avevo Travisato la mappa Credo Quindi Credo Ok Dai Serio Seriamente Sta cosa Eh sì sì Certo C'è platforming Da fare Ma Il problema È dove Guarda un po' Roba 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 Armi Mio 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 No No Lasciatemi in pace Non 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 vi faccio niente Fermi Ciao Sniper Sniper Wolf Ah Grazie Sono contento Che ci sia qualcuno Interessante Sei appena passato Vicino alla locandina Salva Spero di non deluderti Sniper Wolf Tra l'altro Chi poteva venire a vederlo Cioè ovviamente Chi poteva venire a vederlo Se è un filter Se non Sniper Ah Davvero L'ho confuso tantissimo Col passaggio di prima Dove c'era l'arma Pensavo fosse quello Vabbè ma Tipo Ah se io mi metto un attimo così Ok di lì si esce quindi Va bene così Circa Non proprio Ero piccolo io al tempo E vedevo mio padre a giocare a questo Anche perché cos'era Era il 99 O comunque Quegli anni lì Quando Cioè non so se l'avesse appena uscito Però insomma Anni 2000 più o meno Termi di deficienti Calma No Qua non si può salire Va bene Salva qui Salva qui Ehm No No A me serve lo scanner virale Mmm Aspetta un attimo Genji più o meno Sì esattamente Ho il taser Esattamente Ah aspetta un attimo Ci sta Io invece ero Ero lì a terrorizzarmi Da solo Sì Sì Tanto in tanto Con mio fratello Poi spesso Ho recuperato gran parte Della saga Il doppiaggio originale È stupendo Parli del doppiaggio originale Della PS3 O del doppiaggio originale Su PS1 Ok Nessuno giubbotto Antiproiettile Perfetto E già questa È una bella cosa Ciao Wukong Eh madonna Buonasera Cioè Wukong Quanta gente Che bello Spero di trovarti ancora on Ricordi Se non ci metti un'ora a cenare Sì mi trovi ancora qui Buon appetito Comunque Su PS1 ovviamente Su PS3 Sono arrivati i titoli Ah Nel senso che hanno proprio fatto Dei porting Tipo Ok Anche perché non è stato ridoppiato Ok No no è stato proprio Tipo porting Ok chiaro Sì era Ho capito cosa intendi Non è che hanno fatto Un remake o altro Proprio hanno Uno a uno Come tanti titoli PS1 Che hanno prodotto Su PS3 Sullo store Tipo o roba del genere Anche se volendo essere precisi I CD PS1 Sono compatibili con PS3 Quindi Cioè Quelli originali Si intende Carse in realtà Da un lato è fizioso E divertente Questo Sì ma Da un lato è fatto bene Dall'altro Ti ricorda tantissimo Metal Gear E comunque Tanti altri Titoli dell'epoca Cos'è che diceva Cos'è che diceva Nell'into Tipo Trovalo E brucia tutto Cos'è che diceva E brucia tutto Comunque sì Magazzino 36 È lì Il doppiaggio italiano Sempre fatto da Il colonnello Roy Campbell Per No Quello è Rimarrà sempre nel cuore Il no Non sapeva dire No normale Come un essere umano Loro dice così Perché sì Doveva andare al 36 Quindi Vabbè Roy Esatto C'è Roy Che è Markinson Tuttavia Di qui Attenzione Tu Ok Allora tu Sniper Wolf Non lo sai Perché ti sei collegato Adesso Collegato O collegata Non lo so Ma comunque Metà dei briefing Delle missioni Che ci dà Markinson Cioè Io stesso Li leggo Col tono Di voce Di Campbell Ok Ok Tipo Per dire no Ecco tipo questi No questo è di Leon Però non posso Guarda come corre fiero Il nostro Logan Collegato ora E infatti Nel caso se ti vai a rivedere La live Però lo vedi Tipo all'inizio Quando leggo il primo briefing È 36 E mo' Vorrei capire a cosa serve sta cosa Anche perché io non penso che Non l'avevo letto Ti giuro Ti giuro Genji Non l'avevo letto Ho provato a caso Perché È come quando Ho provato a usare La marionetta Su Sekiro Ho detto Boh proviamo Così a caso Non sapevo neanche cosa facesse Ho detto Boh proviamo a caso Come scoprire I segreti della vita Cioè E ovviamente Qui non c'è una mappa Ho notato Che ti avevo scritto Ma tu hai Bellamente ignorato Non ignorato Non è una parola grossa Oddio Tipo le catacombe Qua ci si fa molto Hollywoodiani Tipo tra schivate Mica schivate Qua speravo aprisse Non ti servono Spero di no E qui siamo dove? All'inizio Ah ma può essere Che ci fosse Una recinzione Tipo In questo livello Davvero non serve Una mappa più o meno Perché è intricata Avere una mappa Aiuta Ok sì Io Sì siamo vicini all'inizio Però c'era una recinzione Prima Quindi non si poteva passare Aspetta un attimo Perché questa cosa Mi ha ricordato tantissimo La prima zona Di 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 tutto il gioco Tipo che Sembrava una zona chiusa Con recinzioni Mica recinzioni Poi guarda Fin'altro C'era da fare Un po' aggrapparsi Alla sbarra E roba del genere Aspetta un attimo Dicevamo Teoricamente Devo andare Alla mia sinistra Quindi qui Teoricamente In pratica Ricorda che una smitogliata Li tira giù come mosche Sì è vero Ma tanto mi ha detto Che sono infiniti Quindi non vedo Perché tirarli giù Viceversa Mi preoccupa Il fatto che Non capisco Facciamo una cosa Ma come Calma Voglio fare Un tentativo Complimenti Ragazzi Tipo Di cui è chiuso Io da lì Sono caduto Voglio capire Un attimo Dove si può Perché no Dove si può Ris Non credo In alcuni casi Conviene Ti avviso Ah Ok Solo che questa cosa Mi sembra così Casuale Cioè È fatta solo Per metterci Una cosa Di rifornimento Di munizioni Quindi io devo uscire C'è il platforming Da fare C'è il platforming Da fare Ne è pochi cacchi Cioè Se la strada Porta qui E non si può andare Altrove Che scemo Che pirla Può essere che Può essere che No Volevo tipo Saltare Buttarmi Ah Perché è nera È per quello Che non l'ho vista Ma ricordiamoci Che questa cosa È realistica Ovvero Perché no Perché no Chi Esatto Ho per dire Cosa Devo fare Per farli fuori Che non muoiono C'hanno C'hanno il lag Tipo Cos'è andato a chiamare Rinforzi Cioè O è doveva correre In bagno In bagno Tipo Johnny Tipo Interruttore Sì E comunque Lo ricordo Autotarget Più smitragliata Sì è vero È vero È solo che qua Dovevo colpire Alla testa Per andare Oltre la griglia Penso E quindi Ho preferito Optare per Perché no Calma Posizione tua Individuo Identifica Tra il portatore Del virus O il magazzino 76 Sì Ecco E appunto Già mi sbagliavo Però avendo visto La griglia Immaginavo Servisse qualcosa Di un po' più preciso Per arrivare A Opla Ah Opla Un paio di palle Opla Chi Ah Spero Non so Un po' Un casino Adesso Mi tornerà utile Ok Io devo andare di qui C'è poco da fare Puoi scendere Eh sì esatto Puoi scendere da lì Solo che Si fa tipo Ah no Aspetta è così Che si faceva Vero Esatto Non sono abituato a farlo Perché non serve Praticamente mai È quello che mi ha fregato Lasciami in pace Hai deficienti davanti Occupati di loro Salva Andiamo Tipo Lì davanti Hai 69 Ok E non si apre a calci Peccato Perché volevo vedere Il calcione Che apre la porta Come al solito No Niente Tu fai pure Un attimo Salva Comunque Non l'hai notato Perché l'hai trovato Già la Hai trovato già la strada Ma quello che hai disinnescato È l'energia elettrica Vicino alle sbarre In realtà Io non ho visto Da nessuna parte L'energia elettrica Cioè L'ho capito Che era l'interruttore Di quello Ma non ho visto Dove era l'energia elettrica Più che l'altro Ah Capisco Ma io sono Per Una provata Del disimpegno Io sono per Una fatica Del disimpegno Che è la branca Che io preferisco Con calma Una cosa alla volta Tipo Noi siamo Qui Devo fare platforming Per andare Ok Sì perché normalmente Il filo elettrificato È invisibile Effettivamente Che Questa cosa comunque È realistica Cioè Prendiamola pubblica Sta cosa Non è che se un filo È elettrificato Allora emette scintille Scariche elettriche Devo per dirmi Per dire Mi sono salvato Per miracolo Però tipo Io Se vado di qui Che giro mi fanno fare Sì sì Assolutamente Quello è vero C'è da dire che Fin qui Lo mantiene anche Un po' più Di Metal Gear Solid Il realismo Sinceramente Perché Un po' A volte Metal Gear Solid Va nel Sovranaturale Cose simili E certo il limite Sì Quello è vero Allora Corriamo Io vorrei trovare Un botto antiproiettivo Non credo Che lo saranno Dovrei tipo Un Mette Gear Solid Non dimentica di essere Esatto Bravo E bravo Tipo Psycho Mantis Tipo The Sorrow Tipo Vulcan Raven Ah Ok Rispondi con Il lanciagranate Sono imbecilio Scusate Tipo Era così Che è questo No se non sbaglio Il lanciagranate Fai il suo dovere Non ho capito Non ho capito se anche l'altro È morto No ma No fermo lì Mi sbaglio con i tasti Sì Mi sbaglio con i tasti Tipo quello che vorrei fare Aspetta che controllo Quante Munizioni ho Perché altrimenti Non ne usciamo più Tipo questo Salva E Questa era quella di prima Che era chiuso Ok Può essere che io ti potevo andare qua sopra E questa cosa cosa serve esattamente Ora vuole essere obiettivi un attimo Guardarsi intorno Ok Io devo arrivare da quella parte Grazie a tutti Da qui non lo capisco bene Quale sia Da qui però invece lo capisco molto bene Ok Sempre perché ho finito una sola volta Siamo finita Ricordavo più le fasi iniziali Esatto Esattamente Però questa cosa per primi tanto Può essere che io ora debba andare sotto terra Dove c'erano le cancellate Che adesso magari sono aperte E posso scavalcarle Può essere Oppure può essere che in realtà Semplicemente Le cose siano un po' più facili Tipo così No Non credo proprio No Punizioni comunque Puoi aprire porte Puoi aprire porte Immagino quelle sotto terra Tipo Immagino quelli cancelletti Tipo O tipo Questa non lo so Sì Questa non penso Infatti Però quelle che c'erano avanti Tipo che prima erano chiuse Sì Voglio sì Che dovrebbe essere tipo di qui Se non ricordo male No Non era qui Ma era più indietro Esattamente Tipo questa no Che appunto Vedendo il fulminino Prima mi sapeva di elettrificata Anche se visivamente Non lo era Oh mio dio C'è già un bivio E la cosa Mi preoccupa Se salgo da qui Ok Vicino al magazzino 36 Che immagino Troveremo semplicemente Roba E poi dovremo tornare giù Forse Qua bisogna fare un po' di attenzione Chisssí Qua bisogna fare un po' di attenzione Chisssí Chisssí ma se ci ero già stato non vedo perché aprire il nuovo passaggio per arrivare te la lasciamo probabilmente lì non c'è nulla prendiamo per buono questo ok ecco cosa salvano questi tipo sì lo scanner sì però anche quello dov'è che va usato cioè in che zone perché l'ho ottenuto un po' prima però non trovavo niente provo a usarlo qui magari se mi lasciano un po' di libertà ma tipo salva va prima di farmi inchiata ma tra l'altro se vai nel menu ora puoi vedere tutti i livelli fatti finora cioè in che senso obiettivi no non ho capito in che senso tra l'altro ok beh magazzino istante sai di trovare ah vabbè quello sì sì quello sì ma c'era già da mo' questa cosa dello scanner mi perplima un po' però eh ci ho capito non non mi trovo mai niente oh lo so benissimo che è uno degli obiettivi della missione lì ci arrivo ci arrivo un po' meno a capire quando è che cioè non avendo trovato niente fin qui mi fiu perché un attimo un attimo dicevamo dicevamo di qui di qui si sale perché si dov'è qua salva tipo dove sono io adesso torna indietro non hai raggiunto i tuoi obiettivi ah ma qui sono tipo non importa sono all'uscita l'uscita è qui ricordiamocene l'unica cosa è che vorrei capire un attimo dove cavolo sono i cadaveri e credo che qui a destra ci sia un'altra zona in cui togliere dell'elettricità non lo so no mi dicono che di qui è un coso chiuso un veicolo cieco dove è trovato il lanciagranale ok quindi suppongo di qui esatto di qui sono molto confuso da questa cosa aspetta un attimo qui qui siamo ok quindi no non è qui che dovevo venire era tipo devo tipo risalire dove ho rotto la cosa per scendere o qua sempre che si possa risalire domanda si può risalire da qui no addio aspetta un attimo mi sto confondendo tantissimo ah tu ti ricordi mi fa molto piacere perché io mi sto confondendo tantissimo sul da farsi in area qui tre con il lanciagranate ok spero di ricordarmi dove è stato perché non ne sono molto sicuro ma penso sia di qui sì e ripeto spero sia di qui ah no eh credo che potesse eccola qui esatto esatto e qui ci siamo ah è non capisco cosa dovrei fare però c'è tipo io sto premendo quadrato ma non ho capito se ha fatto qualcosa qualcosa oppure no no triangolo non fa niente x x si accuccia e basta qui è qui qui è qui non è che c'è qualche strada esterna dove lo trovi il segnale bella domanda premistar come sapere se ne porta uno in meno no sono tre in totale no ne ho ancora tre sono un po' perplesso da sta cosa però teoricamente noi dobbiamo andare anche alla zona del deposito 76 che non capisco come arrivarci magari dalla zona finale dove eravamo arrivati vicino all'uscita lì ci sarà qualcosa per non è un'idea stupida sono un imbecil rileva più microscopi e quantità di particelle di virus siphon filter a una distanza di 50 metri minchia lo scanner funziona anche attraverso gli oggetti solidi e offre un'immagine del contenuto ok quindi non non puoi mettere un segnale il segnale serve il che significa che abbiamo fatto tutto questo tutto questo giro per niente non ce l'ho con te è proprio un'osservazione tipo siamo venuti qua per niente quindi dovrò effettivamente andare a cercare qualcosa tipo nella zona finale dove eravamo arrivati là ci sarà qualcosa da trovare probabilmente magari nel magazzino 76 c'è qualcosa però i tre cadaveri mi mi lasciano un po' così perché significa che comunque ne devo trovare tre e vai a sapere dove sono tutti e tre ah tipo salva qui please spero che non saltino fuori ok per fortuna per fortuna no ah no aspetta qui è zona chiusa ok vicolo cieco dovevo andare giù di qua per uscire sono intrippato malissimo cioè intrippato malissimo è una parola sbagliata aspetta sono confusissimo eh anche perché di qui non c'è niente ci sarebbe questo che non ho capito cosa serve non è che magari no eh però teoricamente diceva 50 metri quindi se ci fosse un cadavere comunque lo dovrebbe vedere su via non scherziamo solo che non ho la minima idea alla parte non ho la minima idea di dov'è che ho trovato il lancio granate ci credi non me lo ricordo proprio assolutamente dov'è che ho trovato il lancio granate non è che invece magari qui che ho tralasciato questa zona qui c'è qualcosa prova a guidarmi però magari qui c'è qualcosa dicevo spero che ho saputo trovare quel qualcosa esatto devo che vorrei capire là dai andando tutto a sinistra entriamo un attimo qui eh giusto per stare un attimo a riparo vado ancora a sinistra arrivo vicino alla a un muro tipo l'altro è un macello non si capisce niente no no di salire ok perchè ci sono ovunque ma sono giusto qui l'azione deficiente là sopra che è ok il fatto che tu dica perfetto va bene cioè nel senso non dite dai di fronte a sinistra c'è la strada per il lancio granate eh però perchè così tanti nemici è un macello soprattutto perchè metti cioè è veramente quanto fastidioso metterteli apposta per incasinarti la vita allora calma un attimo eh tipo se io vado qua dentro qua c'era Erickson no? allora calma quelle finestre alle spalle quindi non queste immagino ma le altre che ho visto da qualche parte tipo quelle eh esatto potrebbe essere che l'abbia trovata qui esatto esatto le finestre di fronte esattamente eh è da qui però lo scanner non rileva niente? che palle perché quando lo usi come arma si può salire ancora più sopra ok cioè in questo momento magari mi vedete serioso e tutto ma in realtà perchè sono preso da questa cosa perchè sono molto confuso da quello che sto facendo e da cosa si dovrebbe fare soprattutto si può salire tipo qua sopra? no qua sopra non si può eh ma ci credo veramente no ah cioè no no qui non ci va qui più sopra di così non si può andare anche perchè anche perchè poi tra l'altro a parte che mi sembra strano che non trovi comunque inizia da qui nel senso che dovrebbe trovare fino a 50 metri però oltre a quello cioè la cosa è semplice in realtà trova i tre cadaveri e vai al coso 76 non è così complicato o meglio non è così complicato andare al 76 in realtà la cosa difficile è trovare i cadaveri un davanzale a sinistra e allora andiamoci a piedi se intendi quello che c'era dietro di me allora l'ho saltato se intendiamo qualcosa tipo questo no qui è davvero poco fa esatto l'avanzale è un termine comunque un pochino vago salve aspetta forse si era vicino alla locandina eh ma c'ero già stato lì cioè ci torniamo anche tipo qua no no fermo pensavo fosse aperto anche qua però intorno io lo vedrebbe e quindi no non è qui serio? ah quello trovato l'ho trovato è il segnale che manca e non solo ne manca anche un altro e guarda dov'è qui io posso usare l1 ok anche per attivare questo cioè lo puoi usare o come milino oppure lo puoi usare come arma però è strano prima tipo quando lo usavo come arma tenendolo tipo così se io mollavo quadrato rimaneva comunque attivato no dicevo che premo l1 lo uso come mirino ok se faccio x fa tipo per accucciarsi quindi non funziona faccio triangolo non funziona a meno che tu non debba essere tipo ma non funzionerebbe perché l'altro cadavere di prima si trovava no perché l'altro cadavere di prima si trovava dentro una cassa di fronte a te non sotto di te quindi non funzionerebbe comunque eh no perché appunto il quadrato il quadrato lo preme come se dovessi usare questo come se dovessi usare lo scanner ah può essere che no scherzavo poi gli armi hai al momento allora le classiche 2 lo scanner il taser non credo che sia il caso M79 che è finito fucile di precisione cosmi taglietta carabina taglietta 9 mm quindi niente di particolare sembra proprio ma effettivamente ha senso io dovrei trovare il modo di andare nella zona del deposito 76 del magazzino 76 è l'unica zona che non ho ancora raggiunto secondo me la trovo qualcosa che mi serve a fare questa cosa qua tra l'altro fammi vedere una cosa perché tipo io prima ho sbloccato ciao Wukong bentornato forse per me triangolo sulla cassa è se è triangolo da solo sulla cassa no no non funziona non sul cadavere e comunque vabbè ma deve morire ho trovato identificato un contenitore del virus non so cosa avessi un per fare ma devo abbastanza per me in chiaro contenente sto dettando di localizzarti usando satelliti spie della nato ma i computer dell'agenzia devono essere bloccati niente paura non ho coperto qua giù però tecnicamente teoricamente esatto chi se ne frega si però deve morire cioè dai aspetta un attimo ciao una pagina inizia che mi ha sponsorito per il mio canale se ti interessi ok la pagina si chiama ok dai casomai appena finisce la live ci passo dai grazie per l'info si ma è veramente una fesseria genji cioè ma non me lo immaginerei mai usa lo scanner per trovare il cadavere e per nessun motivo senza scanner né niente premi triangolo su cioè questo è ok quello che si trovava al il 36 cos'era quello che abbiamo trovato prima comunque dentro l'altra cassa ci preme il triangolo davanti perché non c'è molto altro da poter ipotizzare ecco in questo caso però mi farebbe comodo una razione o un giubbotto antiproiettile per dire via via tantissimo solo che tipo qui siamo andati all'iniziale e non è esattamente dove dovrei essere è evidente il problema che avemmo momentaneamente per attivare il c4 nella metro più o meno abbiamo avuto lo stesso problema che tra l'altro oddio cosa bisognava fare per il c4 bisognava non credo eliminare tutti i nemici cos'è che bisognava fare non me lo ricordo più avevamo avuto un problema sì bisogna andare avanti proprio alla locandina che è qui comunque quindi se mi scioccano ricomincio da qui non c'è problema applicarlo vicino alle sbarbe il c4 sai che non me lo ricordo proprio dovrei rivederlo perché tutta cosa non me la ricordo ok e fin qui allora calma un attimo calma un attimo salva a sinistra dove stava quella finestra ok quella finestra sì quella finestra lì solo che tipo per dire no altrimenti come la apro non mi ricordo se fosse qua sopra sì e finalmente ci si entra e può essere che qui ci sia un cadavere tra l'altro però dimmi che c'è un giubbotto di proiettile grazie sì sì ok c'è stata un piccolo cosa sulla connessione ho visto però sono rimasto fermo qui qui dovrò usare lo scanner assolutamente esatto eccolo qui tipo se vado qui mi muovo bene in realtà perché da un lato ci ho fatto un po' l'abitudine dall'altro stasera sto usando sto usando un controller al contrario di tutte le live fin qui su iPhone Filter dove usavo la tastiera era un pelo differente la cosa ho preso l'abitudine con quella però adesso che poi comunque con i comandi e ora che ho un controller la cosa va molto meglio però c'è da trovare l'altro cosa adesso per cui devo andare sottoterra uscire dall'altra parte ok salva non rompete le balle voi ok andiamo di qui via usti grande più che altro ci ho messo un po' per capirlo che stavo che avevo impostato male l'emulatore e quindi non riusciva con select switch velocemente l'arma che doveva essere options per me si perché l'ho impostato su options si però appunto avevo impostato malissimo l'emulatore e quindi non riuscivo a usare i controller stasera ci ho smanitato un attimo e ho detto no ascolta il controller ps4 non può essere che non e mi sono reso conto che avevo fatto io la manchiata e il momento in cui ho smanitato un attimo ho detto vediamo un attimo di fare delle prove e ma dai ma non dire salva quindi teoricamente devo andare solo al magazzino 76 ecco la vera domanda è come ci arrivo io al magazzino 76 questa è la vera domanda perché fino al magazzino 76 non abbiamo avuto alcun modo di arrivarci finora no quello che abbiamo trovato noi prima era in alto a sinistra nella parte di mappa in alto a sinistra dove non c'è scritto assolutamente niente eravamo lì prima che era appunto tutta la zona nord chiusa sì esatto ma io devo andare al magazzino 76 e al magazzino 76 come ci arrivo anche quello è un obiettivo comunque tipo per dire no fuori di qui a destra però appunto io me lo ricordo che fuori di qui a destra c'è l'entrata per un coso che è chiuso e da qui non capisco come proseguire a proposito ok ok tipo si faccio perché si cioè è di là che devo andare io si apro la mappa indica di là come mica ci arrivo però un passaggio sotterraneo non ne sono molto sicuro sinceramente salva tipo provo a fare così vediamo un po' cosa troviamo qui in giro ci deve essere ci deve essere in modo ovviamente ma ci ho provato questa cosa mi è in quella è verso destra solo che non capisco quindi teoricamente è di qui ma se vado di qui rispunto su dall'altra parte cosa c'era? niente solo ripari per le sparatorie e quant'altro infatti la strada giusta era tipo andare qui a destra oh io ci provo non dico che serva a qualcosa ma ci provo abbiamo visto che a volte non segue molto la logica esattamente esattamente a volte non segue molto la logica ma quindi Genji e e Wukong e anche Sniperwolf se ci siete ancora come ti dicevo parte finale sì ma la cosa va io al cosa 76 la mia logica di gameplay dice sì se non vado al 76 prima non mi fa finire e invece sì perché non era questo il cosa 76 cioè il cosa 76 era più a sud va va a sapere va a sapere più che altro quindi prossima volta teoricamente lo finiamo può essere e soprattutto quanto manca alla fine più o meno cioè quanto può essere lunga giusto per farmi un'idea perché di norma stai nei pressi dell'area sì molto tirata questo briefing lo sp... ah non lo volevo leggere per non farmi spoiler la mia esperienza di critico analitico della della lingua mi dice che probabilmente c'è un errore di traduzione qui tra l'altro ancora riuscite a a ah aspetta un attimo quindi no 1 non era un errore di traduzione 2 ok il magazzino è stato ok 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 va bene Sì ma allora Non mettermi il deposito 76 Eh perché altrimenti mi cervello In tutti i modi per poterci arrivare Prima di andare alla zona finale Eh È la mia logica E poi lui ha la sua Io ho la mia Ma comunque quanto può mancare alla fine Esattamente Cioè secondo me ci siamo più o meno Però 10 minuti, mezz'ora, un'ora A me non iniziano ad arrivare i dubbi Man mano che vai avanti è normale che pur Io erassi sbigottito su certe cose che all'epoca Mi vengono idea, sì ho presente la sensazione Sì assolutamente Perché anch'io magari tante cose all'epoca le ho fatte migliaia di volte Diverse volte E poi a vederle oggi dico Aspetta un attimo Non funziona perché? Cosa manca? Cervellarsi Cervellarsi credo che tra poco Trano molto tempo sarà la parola chiave Grazie Sì assolutamente Beh però la metro La metro me la ricordo molto molto vagamente Mi ricordo che era un po' un porcaio In mezzo a mille nemici che arrivavano di qua e di là E oltre a quello dove evitare il fuoco Sì esatto bravo esatto Stavo proprio dicendo quello che all'inizio facevo fatica a platforming Cosa è il platforming? Poi ho detto Ah c'è da arrampicarsi Infatti ogni volta che arrivo Adesso ogni volta che arrivo a un punto morto Mi guardo anche intorno per vedere se c'è qualcosa a cui aggrapparsi Sì Sì Parentesi Barili da fare esplodere li usano anche gli altri per farti fuori Quindi non sai dirmi eh quanto manchi Non sai barra non sapete Dirmi quanto manchi Dove cavolo è? OBS qua A parte che Salva please Va bene dai Se non finisce la prossima live magari la seconda Cercherò di finire alla prossima allora Cercherò di non metterci troppo insomma ecco Non è che voglio andare di fretta più che altro Mi dispiacerebbe un po' magari fare una live intera E poi finire in quella dopo in un quarto d'ora venti minuti Preferirei fare una live unica ecco Comunque ok Quindi oggi è lunedì Venerdì Venerdì ok Per se una volta Ok Allora ragazzi ci fermiamo qui per stasera Grazie per la compagnia come al solito genji Anche perché gli ultimi livelli durano poco Quindi niente ragazzi Genji tu domani sarà sicuramente Immagino non ci sarai perché domani sarà c'è Nier Automata Però si continua Dark Souls mercoledì Va bene dai Buona notte a tutti quanti E grazie ancora di essere passati Anche Sniper Wolf se dovesse essere ancora collegato Buona notte a tutti quanti